Carissimi amici, nonostante la neve il giudetto il gemino, io ho pensato di accontentare qualcuno che mi ha chiesto notizie su alcune zone di Napoli. In questo momento accontenteremo quelli che mi hanno chiesto notizie su Castelnuovo. Castelnuovo è più conosciuto come il Maschiancioino. Il Maschiancioino è un'enorme fortezza che ha protetto Napoli fin dalla fine del 200 quando è stato costruito e è vicinissimo al mare, pochi metri, proprio per la sua funzione. E praticamente non è solamente una fortezza attualmente, ma è anche parte riservata alle riunioni comunali importanti come per esempio la Sala dei Baroni su cui ci interterrimo molto in seguito. Ci sono anche zone museali che potremmo vedere in parte, peccato che molte zone per motivi di sicurezza siano chiusi come le segrete e altro. Ma quello che vedrete già sarà sufficiente per darvi un'idea e per accontentare gli amici che me l'hanno chiesto. Grazie a tutti e ci sentiamo presto. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.